Il jeb è il colpo di braccia dritto tirato col braccio avanti, cioè questo. Il jeb è l'arma di attacco più importante. E sotto. Il jeb è l'arma di difesa più importante. Perché è quello che ci assorbe meno risorse, cioè anche quando sei stanco puoi tirarlo quante volte ti pare, è il più veloce di tutti quanti i colpi e andando a segno interrompe qualsiasi altro colpo. Quando il jeb va a segno interrompe tutti gli altri colpi. E siccome è il più veloce è più probabile che anche partendo io tiro un jeb, il mio avversario tira un gancio braccio dietro, io arrivo primo, il gancio braccio dietro non mi arriverà, anche se è molto più potente. Come tirare un jeb perfetto? Colpo perfetto, jeb o altro colpo che sia, è un colpo che va a segno. Quindi vi mostro, staticamente senza un avversario, come deve essere il jeb per essere perfetto. Per esserlo biomeccanicamente, come ogni colpo, deve adoperare, deve coinvolgere ogni segmento corporeo. Più massa del corpo coinvolgo esposto e più avrà potenza. Tanti combattenti tengono un braccio avanti e col braccio avanti fanno questo lavoro come per disturbare. Detto questo, vediamo segmento per segmento corporeo di vedere come tirarlo. Fatelo insieme a me. Immaginate che un jeb ti coinvolge in una maniera che la tua guardia rimane bella, solida, come era prima. Come posso adoperare questa gamba, il piede in particolare, per il jeb? Beh, il jeb è un colpo che sviluppa in avanti, parallelo al terreno, quindi va veramente orizzontale. Come può il piede aiutarmi a sviluppare energia in questa direzione? Beh, contraendo il polpaccio e stendendo il piede. Vediamo? Sì. Ok. In questa maniera il piede mi sta aiutando. Piede, gamba, coscia. Gamba stende, coscia stende. Quindi, questa gamba, se ha un ruolo attivo, beh, quel ruolo attivo è scartare avanti, smettere di contrastare il mio peso. Cioè, può sollevarsi. Se io sollevo questa gamba, io in effetti vado avanti. Non ho spinto con la gamba dietro, sono andato avanti solo perché ho sollevato questa gamba. Beh, se io sollevo la gamba, la forza di gravità unita al vincolo della gamba dietro, che c'è un vincolo, levo solo questa, io avanti avrò un jab più potente. Il ruolo della gamba dietro è spingere. Il ruolo della gamba avanti è non fare resistenza, anzi, aiutare andando avanti smettendo di frenare il corpo. Ecco, muovete tutto il corpo. Non lo lasciate qui, ma spostatelo anche un centimetro. L'azione la fa la gamba che spinge, quest'altra si solleva e sposterà il corpo. Attenzione che un errore comune è sollevare prima la gamba avanti, cadere in avanti, e siccome sto cadendo in avanti, mi si stenderà la gamba. Il braccio parte per ultimo. Piede, gamba, bacino, tronco, spalla, il braccio ancora è qui. E poi... Colpi impulsivi, Alfredo, non ti ammosciare. Metti il tronco, Giulio, così, così. Vai Ludo, tira anche i calci, non solo i pugni. L'unica maniera per far alzare il ritmo cardiaco. Vuoi imparare a difenderti da aggressioni e prepotenze? Sono Danilo Capuzzi, il presidente della famosa Otsuka Club. Ho lavorato nella sicurezza per ben 11 anni. E sono famoso perché per strada mi sono difeso decine di volte. Vuoi imparare a farlo anche tu? Fai una prova gratis con me. Unisciti ai miei studenti. Clicca il link che trovi nei commenti. Grazie a tutti.